Le aziende entrano nella scuola e il Time for Job, l'iniziativa organizzata dall'Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile di Ortona. L'Istituto Tecnico Superiore è una scuola di alta formazione che specializza giovani diplomati nella gestione dei processi di trasporto e logistica, crea nuovi profili occupazionali più vicini alle esigenze delle aziende che producono, distribuiscono e movimentano merce e persone. L'incontro scuola-lavoro è sempre qualcosa che porta bellezza alle persone, che porta arricchimento assolutamente. Questi sono tutti ragazzi che sono in formazione, quindi studiano e si formano e oggi è stato un incontro con l'imprenditoria, con i loro settori, con le più svariate industrie del territorio, quindi è stato qualcosa di estremamente positivo, veramente un open mind per tutti. Tra il 2016 e il 2020 oltre 900.000 posti di lavoro richiedono professioni specialistiche e tecniche, pari al 38,7% del fabbisogno occupazionale nazionale previsto, oltre 122.000 nel settore trasporti e logistica, di cui 42.000 nel centro Italia. Noi cerchiamo di promuovere queste giornate anche perché ci servono per raffinare quello che è il nostro progetto formativo, cioè rendere il nostro progetto formativo più conforme a quelle che sono le esigenze delle aziende. Nel prossimo anno ci saranno 42.000 posti nel settore della logistica, delle merci e dei passeggeri, quindi cercare di conformare i programmi della scuola a quelle che sono esigenti significa avere una probabilità altissima di occupare queste caselle. Il Time for Job è un primo step di incontro tra scuola e aziende. Hanno partecipato le Ruamerland, Ok Carburanti, Verind Plast, Digital Soft, Taumac, Solis e Sangritana. Lo scopo è quello di formare gli studenti così che siano subito adatti al mercato del lavoro, mano d'opera per le grandi imprese, così da diventare subito membri produttivi della società. Io e i miei colleghi abbiamo ascoltato attentamente la lezione di stamattina dell'ingegner Cernigliaro che ci ha aperto un mondo su quello che compie il management e di come queste scelte poi si riversano su tutta la supply chain, la catena logistica, le evoluzioni che subisce il mondo del trasporto delle merci alle aziende e poi quindi anche ai consumatori arrivando direttamente a casa. E pare che l'incontro abbia già dato i primi frutti. La El Transport ha avviato le pratiche per inserire in organico tre elementi e anche Leruo Merlend ha dato disponibilità per inserire qualcuno nei suoi punti vendita. Su alcune tipologie di risorse di ruoli c'è proprio scarsità sul mercato quindi ritengo che l'iniziativa di questa scuola di formazione sia vincente, vincente per i ragazzi che la fanno e vincente per le aziende che cercano risorse in grado poi da far sviluppare poi nel tempo nelle aziende perché oggettivamente oggi si fa fatica a trovare il personale adatto.